Un'occasione semplice di preghiera. È stata questa la Notte dei Santi che le clarisse di Camerino, custodi delle spoglie di Camilla Battista d'Avarano, hanno pensato di celebrare nella notte che precede il giorno di ogni Santi. Così, dalle 21 fino alle 6 e 30 del mattino, il monastero in elegno di Santa Chiara, che dallo scorso anno accoglie le sorelle sfrattate dal sisma, ha ospitato i fedeli per una lunga veglia che, tra canti, preghiere e meditazioni, ha accompagnato l'attesa dell'alba del giorno dei Santi. Qui al monastero è la prima edizione, anche perché noi siamo tornate da un anno dopo il sisma, in questa struttura provvisoria di legno, però che ci accoglie. Anche se questa proposta è da tempo che viene fatta qui nella nostra diocesi, inizialmente dai frati Cappuccini, che giustamente, essendo tornate e custodendo qui il corpo di Santa Camilla Battista, hanno capito, pensato, che il luogo più adatto per fare la notte dei Santi fosse proprio qui, dove c'è questo grande faro, questa grande santa. Posso dire questo, che in realtà la notte adesso è stata rivalutata, ci sono tante iniziative, la notte rosa, la notte bianca, proprio perché la notte porta con sé questo stacco rispetto al ritmo di tutti i giorni, il tram-tran, gli affanni, gli impegni. Se a volte è un'occasione per evadere, uscire da sé, questa vuole essere un'occasione per rientrare in sé stessi. Non una contrapposizione ad Halloween, ma soltanto la riscoperta della nostra tradizione, di cui fanno parte anche i Santi. Nel libro della Terra dei Fioretti si dice che le Marche sono ripiene di Santi come il cielo costellato di stelle. Allora l'augurio che noi facciamo ad ognuno per questa notte sempre è di essere una luce e una stella nel firmamento dell'umanità e della vita. Nel corso della funzione religiosa i fedeli hanno acceso una candela a simboleggiare l'impegno e il richiamo ad essere luce, come lo sono i Santi. E durante la notte la Chiesa sarà sempre aperta perché ognuno possa venire qui e attingere forza e luce da quei fratelli che ci hanno anticipato nel cammino della vita, che sono i Santi, alcuni anonimi, alcuni invece conosciuti, che hanno combattuto la buona battaglia, hanno affrontato la notte e seguendo la luce di Cristo sono giunti all'alba della vita nuova.